Facciamo un conto la rovescia tutti insieme, a partire dal 45, no, da 70, no, facciamo dal 7, così è un po' più veloce, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e vai! Ecco, come potete vedere, il 70 ora si dovrebbe spegnere per riaccendere. Io l'ho interpretato come una figura femminile, ma sicuramente la sua velocità è un'icona, secondo me, dai nostri tempi, perciò anche in questo caso il conteggio sarà più breve, 3, 2, 1, volare, ecco qui. Mi sembra, faccio un grande saluto appunto alle persone che entreranno, ricorda un po' come si chiama, Cristo Pecceno.